Il 4 dicembre gli italiani hanno detto una cosa Basta con questa gente Basta con questa gente Voi che cosa avete fatto? Voi che cosa avete fatto? Avete tolto Renzi? No! Avete tolto Renzi? E avete messo? E avete messo chi? Renziloni! No! Renziloni avete messo La stessa cosa di prima Non è cambiato niente Ma non le stesse persone che hanno affossato l'Italia Per mille giorni No! Avete ammazzato questo paese per mille giorni No! Ma vacci due a fare il ministro Ci va la Gastaldini Ma mandate qualcuno di gente Nel momento in cui Renzi ha perso E noi abbiamo perso il referendum Potevamo Quali erano le opzioni davanti Senza prenderci tutti per il sedere Andare a casa Andare a casa Ma davvero Ma davvero Ma davvero Ma davvero a casa Andiamo a casa Anche Renzi Che resta segretario del PD E continua a gestire la casa Nuove elezioni E continua a restare Il segretario del PD